La cantante Giorgia festeggia il suo esordio sul set con un premio all'Umbria Cinema Festival, ieri ultima serata della Kermes Studerte che ha portato sul palco Starno Strane Internazionali. Protagonista dell'ultima serata dell'Umbria Cinema Festival di Todi è stata Giorgia, premiata per il suo esordio cinematografico. La cantante non ha fatto mistero dell'amore per la nostra regione. Luca Ginetto. Cala il sipario sulla terza edizione dell'Umbria Cinema Festival di Todi, quella certamente della consapevolezza del grande successo della formula della manifestazione diretta da Paolo Genovese. L'ultima serata ha visto come protagonista Giorgia, premiata per il suo esordio cinematografico con Rocco Papaleo. Ci ha creduto tanto, mi ha fatto lavorare con lui per riuscire a dare il meglio e sono felice che evidentemente ci ha riuscito. La cantante si è dichiarata affascinata dal mondo della cinematografia e disponibile a tornare sul set. Ho un grande entusiasmo perché mi sento principiante e quindi ho l'entusiasmo di quando cominci a fare qualcosa di nuovo. Poi è tutto così bello, sono tutti così gentili, sono veramente felice. Dopo Matt Dillon anche Giorgia ha confessato il suo amore per l'Umbria. Io ogni volta che vengo in Umbria dico che dovrei trasferirmi, questo è il mio rapporto con l'Umbria. Vado via e me ne dimentico, torno e dico ma perché non vivo qua? Perché comunque notavo anche di come c'è questo matrimonio splendido fra l'architettura e la natura e questo secondo me solleva tanto l'animo. Per cui tu arrivi e senti che la vibrazione è diversa, ti alleggerisce i pensieri che è una cosa secondo me in questo momento storico molto importante per tutti noi.